Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Mi piacciono gli italiani, vanno alla guerra come se fosse una partita di calcio e vanno a una partita di calcio come se fosse la guerra. E chiosi su di noi dicendo che in qualche modo, a parte un po' di strateghi esperti di geopolitica e foreign fighter da salotto, alla fine gli scemi di guerra siamo noi che siamo dentro una guerra di cui in fondo sappiamo poco e che non vogliamo. Gli scemi di guerra non sono tutti quelli che mentono sulla guerra. Gran parte di quelli che mentono sulla guerra e che ci hanno raccontato balle megagalattiche per un anno e più, quelli sono furbi di guerra, quella gente specializzata in propaganda bellica che vent'anni fa ci raccontava che stavamo esportando la democrazia in Iraq e abbiamo visto dove è finita la democrazia che abbiamo esportato. E adesso ci raccontano che stiamo partecipando alla vittoria dell'Ucraina contro la Russia e che presto con la prossima arma segreta, perché è sempre la prossima l'arma segreta, ci sarà un'immediata riconquista di tutti i territori occupati dal 22 febbraio dell'anno scorso, anzi ci sarà anche la riconquista della Crimea e quindi ci sarà la ritirata di Russia, la seconda ritirata di Russia della storia e finalmente firmeremo il trattato di pace che firmerà Zelensky da solo perché i russi saranno già andati via. Questa è la super balla che ci raccontano da 13 mesi. Purtroppo tutti gli esperti veri, a cominciare dal comandante in capo delle truppe americane, di tutte le truppe, di tutte le forze armate, il generale Mark Milley, dicono che questa è un'impostura, è una cosa che non succederà e quindi tutti quelli che raccontano questa cosa sono furbi. Gli scemi sono quelli che la ripetono a pappagallo e quelli che ci credono e quelli che non si ribellano, che non si sono resi conto che ci stanno imponendo una guerra di vent'anni nel cuore dell'Europa. Se tutto il mondo occidentale è con l'Ucraina, perché dovremmo starne fuori proprio noi? No, questo che ci dice, cioè l'Europa sta con l'Ucraina, l'America sta con l'Ucraina, tutto l'Occidente democratico è con l'Ucraina. Come fa l'Italia? Che fa? Si sfida solo lei? Infatti bisogna stare con l'Ucraina. Secondo te stare con l'Ucraina, mandare armi e non soldati all'Ucraina per fare una guerra per procura dove noi mettiamo le armi, gli americani ci mettono gli affari e gli ucraini ci mettono i morti? Secondo te è un modo di aiutare l'Ucraina? Illudere gli ucraini che recupereranno tutto il loro territorio nonostante che il comandante delle truppe americane dica che è una cosa irrealistica? Secondo te aiutare l'Ucraina? Secondo me aiutare l'Ucraina è consigliarli e dato che gli mandiamo un sacco di soldi e un sacco di armi e li teniamo in vita artificialmente, perché l'Ucraina è un paese che era già fallito prima della guerra, figuriamoci adesso, credo che abbiamo voce in capitolo anche per consigliargli il contrario di quello che gli stanno consigliando gli americani. e visto che l'altro giorno, perché ormai ogni giorno succede qualcosa di sempre più grave che noi non notiamo più ieri è successo che gli inglesi hanno annunciato che mandano in Ucraina degli ordini all'uranio impoverito l'altro ieri il presidente americano ha intimato al governo ucraino, violandone totalmente la sovranità che non deve accettare di discutere con chi che sia di cessate il fuoco ora, l'idea che per aiutare l'Ucraina si debba ordinarle di impedire in qualsiasi modo che ci sia un cessate il fuoco, cioè che smetta il massacro questo ci dà l'idea di come stiamo aiutando l'Ucraina a farsi distruggere completamente e a farsi sterminare completamente la sua popolazione. Quindi secondo te in qualche modo aveva ragione Massimiliano Romeo ieri mattina in Parlamento quando dice parlare di una vittoria sulla Russia è del tutto impossibile? Ma io non ho sentito Romeo, se ha detto questo credo che abbia copiato quello che dicono tutti gli strateghi militari seri a cominciare dal capo di Stato Maggiore delle Forze Armate americane il generale Mark Milley che da sei mesi dice che è totalmente irrealistico il ritorno ai confini del 2021 o ai confini addirittura del 2014 e che questo stallo attualmente in corso durante l'inverno ma lo dice da novembre, è la condizione più propizia per negoziare. Stamattina ho sentito un discorso incredibile, allucinante della Meloni che dice che chi vuole negoziare vuole continuare l'invasione. No, è chi vuole continuare la guerra che vuole continuare l'invasione in attesa che i russi prendano Bakhmut e che poi da Bakhmut di Laghi non è il resto del Donbass. Grazie a tutti.